Sarà un calendario ricco e variegato, come sempre, dalla commedia a testi di impegno sociale, il tutto condito da grandi nomi e grandi interpreti. Emilio Solfrizia, Ambrangiolini, Vanessa Scalera, Pierpaolo Spollon, Renato Raimo, Corrado Nuzio e Maria Di Biase e poi ancora Lino Guanciale e Francesco Montanari. Così la nuova stagione di prosa 2023-2024 del Teatro dei Differenti di Barga, promossa da Comune di Barga e Fondazione Toscana Spettacolo, che è stata presentata in questi giorni dalla direttrice della Fondazione, Patrizia Coletta, dalla sindaca di Barga Caterina Campani e da Flavio Guidi dell'Ufficio Cultura. Nel cartellone 8 appuntamento e ad aprile 2024 uno spettacolo fuori abbonamento. Il via il 18 ottobre prossimo con Francesco Montanari e Lino Guanciale, con l'uomo più crudele del mondo. Tra gli appuntamenti prossimi, quello di mercoledì 22 novembre con Cetra Una Volta, uno spettacolo frizzante sul quartetto Cetra.